Avrebbe rubato una carta di credito a una signora di Matera e del denaro contante ad un uomo di Santeramo in Colle all'interno dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti durante le visite dei pazienti. Per questi due episodi i carabinieri hanno tratto in arresto una donna di 45 anni accusata di furto. I militari hanno scoperto le azioni criminali della donna grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, dove è emerso che la stessa si soffermava ad osservare i movimenti delle potenziali vittime per poi agire. La 45enne a bordo dell'auto intestata al marito era solita fermarsi all'ingresso principale del nosocomio ed è riuscita prima a trafugare dalla borsa di una signora di Matera una carta di credito. Grazie a tutti.